Musica Aspetta No, no, alzarmi Aspetta No, alzarmi Aspetta Il Le Il 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 Grazie a tutti. Ehi! Chi è questo? Portiamolo con noi! Ti abbiamo portato il giovane! Siamo in la nombra, e allà è il marco! Ehi! Ciao! 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 Hola, ci soy Maria Dolores e soy la niña de Juan Miró Esta è la sua fondazione che è stata inaugurata nel 1975 ed è stata fondata dagli stessi per permettere a tutti di conoscere l'ultima temporanea Già lo sè Quale sarà la strada? Ehi Bruno Sono qui Io tu chi sei? Io sono in la sua strada E dimmi la strada Beh, questo dipende da dove devi andare Vuoi tornare a casa? E io non so dove ando No Bruno, quella è la strada sbagliata E qui? Se a casa vuoi tornare Dalla regina di cuore devi passare Qui siamo al Montjuic E chi sarebbe questa regina di cuore? Non devi chiedere chi è la regina di cuore perché la testa ti fa saltare Ok, io vado E' quella la strada Al quartiere Example E tu chi sei? Io sono la regina di cuore La regina? E su cosa re? Su questo mondo Il mondo delle meraviglie Il mondo delle meraviglie E effettivamente Il mondo delle meraviglie E su questo mondo Il mondo delle meraviglie Il mondo delle meraviglie Il mondo delle meraviglie E il mondo delle meraviglie E la regina di cuore E il mondo delle meraviglie E la regina di cuore E la regina di cuore Ehi, questa è la fontana di Piazza di Spagna, dove il venerdì è il sottotitolo. Va bene, ora quattro e mezza Malpensa te è il menaù. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire?